Caro amico Pesenti, io non sono intervenuto unilateralmente. Io penso che ci sia stata unilateralità da parte di quel governo che a camere sciolte in campagna elettorale aperta ha prodotto un decreto legislativo contrastato da tutte e quattordici le organizzazioni dei datori di lavoro, comprese la Lega delle Cooperative, la Confesercenti, la CNA. Io invito chi fischia a risparmiare l'ossigeno per il cervello perché noi abbiamo bisogno perché noi abbiamo bisogno